Ciao, un po' che non avete notizia da me, lo so, ma che lavoro! A Sesso San Giovanni, in una zona di fianco a quella che sarà la nuova città della salute, un progetto mega, un appartamento che vado a vedere in questo nuovo contesto, molto carino e messo nel verde. Si accede all'area living, questo è un open space, vi faccio, a vedo della cucina totalmente organizzata, chiaramente frigorifero, sproviglie, forno e piastra elettrica, coerzionatore. Come vedete è molto molto luminoso, ci sono due ampie finestre e porte finestre che danno direttamente sul terrazzo, un divano letto totalmente nuovo. Vedete, per due persone questa è una soluzione stra-ideale. C'è anche posto auto.